Luci della ribalta, lo spettacolo e la comunicazione, sviscerati da Marco Bonardelli. Martina Di Fonte a Messina, al Teatro Vittorio Emanuele, con il berretto Assonagli di Pirandello, per la legge di Francesco Bellomo. Intanto parliamo del tuo ruolo in questa pièce così importante che uno dei testi più amati del grande Pirandello. E' anche uno degli spettacoli più belli di sempre che io abbia mai fatto, c'è da dire, perché comunque sono affiancata da Gianfranco Iannuzzo, Emanuela Muni, Veronica Rega, Franco Mirabella e tanti altri attori con me in scena. Il mio ruolo è quello di essere la moglie di Gianfranco Iannuzzo, quindi di Ciampa, si chiama Nina. E' un bel ruolo, è piccolino ma è bello intenso, sono cinque minuti di performance ma è un bel ruolo. Poi sono affiancata da Gianfranco Iannuzzo che è un grande attore, un grande professionista e anche una grande persona. Quindi mi sento molto fortunata di poter fare questa esperienza. Sei un'artista emergente, come attrice in questo caso ma anche come cantante, ricordiamolo. Esatto, in realtà come cantante ho fatto tante altre cose perché ho iniziato prima. La recitazione è venuta subito dopo e quindi ho avuto la possibilità e l'opportunità di lavorare anche nel cinema, nella televisione e nel teatro. Attualmente sono in scena con questo spettacolo ma poi riprenderemo Fiori d'Acciaio che abbiamo fatto una tournée di tre mesi appena conclusa. Poi ci sarà Roma e Giulietta e tanti altri progetti che non vi posso svelare adesso ma ci saranno sicuramente. Tra l'altro con Fiori d'Acciaio sei stata anche qui. Sì, esatto, siamo stati qui e se non sbaglio anche qui abbiamo fatto con Fiori d'Acciaio due repliche. È sempre bello tornare qui in Sicilia, io la amo, quindi veramente è come essere a casa per me. Ovviamente è un testo molto complesso come tutti i testi del grande Pirandello perché ricordiamo la drammaturgia pirandelliana è una sicuramente delle più complesse nella storia del teatro e anche della letteratura italiana. Che lavoro avete fatto con il regista, poi attori, con Francesco Bellomo che tra l'altro ricordiamo è di Agrigento, quindi proprio come Mirandello. Sì, esatto e se non sbaglio concluderemo la tournée con questo spettacolo proprio di Agrigento a fine giugno probabilmente. E diciamo che il mio ruolo l'hanno fatto più persone nel corso di questi anni, anche perché è uno spettacolo che è in giro comunque da una decina d'anni, quindi io sono subentrata soltanto l'anno scorso a fare questo ruolo e lavorando già con Francesco mi ha dato due indicazioni che mi sono bastate poi per interpretare bene il ruolo, anche secondo i consigli di Gianfranco Iannuzzo, insomma è stato molto semplice, devo dire. Poi quando si lavora con professionisti del genere sicuramente è tutto più facile. Eh sì, esatto, esatto e io ho la fortuna sia in Fiori d'Acciaio che in questo e anche in altri progetti di aver collaborato comunque con grandi professionisti. E devo dire che siccome spesso sono sempre la più piccola della compagnia, quindi sono la cocca della compagnia, è sempre stato bello sentirmi coccolata da queste grandi famiglie che mi insegnano ancora tutt'oggi tanto. Girodiamo tra l'altro che tu in questo periodo sei anche al cinema con la grande guerra del Salento, girato nella tua terra, che racconta la prima tragedia calcistica della storia, una storia mai raccontata che il regista Marco Pollini ha portato sullo schermo, traendola da un libro di un professore proprio pugliese che ha tirato fuori questa pagina tragica del dopoguerra. Esatto, è una storia realmente accaduta nel dopoguerra e abbiamo girato questo film interamente d'estate 50 gradi all'ombra e mi ricordo noi avevamo queste calzamaglie, queste giacche di lana, insomma eravamo ben coperti, però è stato bellissimo perché è stata la mia prima esperienza in Puglia, quindi è stato il primo film che ho potuto girare in Puglia nella mia terra a cui sono veramente tanto legata, seppur vivo ormai fuori da tempo. E poi è stato bello perché abbiamo raccontato una storia vera ed è stato ancora più bello rivederlo al cinema. Adesso è ancora nelle sale, è uscito il 5 maggio ma è ancora nelle sale e con me c'è Marco Leonardi, Fabius De Vivo, Pino Amendola, Riccardo Lanzarote, Rosanna Cannone, Lucrezia Scamarcio, Valerio Tombone e tanti altri attori bravissimi con cui veramente si è creata una bella armonia e poi il successo del film è stato anche questo, l'unione che ha fatto la forza. Ricordiamo il tuo ruolo perché tu sei coprotagonista in questo film, sei tra i protagonisti giovani del film assieme a Marco Donati e anche un altro attore che interpretano i due, diciamo, antagonisti, i due presidenti della squadra di calcio. Esatto, esatto. Io sono la coprotagonista e sono praticamente la fidanzata del ragazzo che poi perderà la vita durante questa partita di pallone. Il mio ruolo è Giovanna. Giovanna è una donna molto forte, semplice ma che sta accanto al suo compagno sempre, non lo lascia un secondo. E poi è una donna molto passionale, innamorata della vita, sempre positiva. Un po' come sono anch'io nella vita, lo dico sempre. Infatti ho trovato molto semplice anche interpretare questo ruolo perché con estrema naturalezza e verità ho dato vita a questo personaggio che ancora tutt'oggi porto dentro di me. E tra l'altro so che pochi giorni fa c'è stata una proiezione a Lucera in provincia di Foggia, tuo paese natale. Un cinema-teatro che io ho frequentato per anni perché io ho iniziato facendo dei corsi di danza, quindi lì facevo degli spettacoli di danza e quindi è stata una bella emozione ritornare insomma nello stesso posto con un progetto tutto mio, girato comunque sempre in Puglia. Peccato che però a differenza di altri cinema e altre presentazioni che sono state fatte abbiamo avuto poca visibilità perché comunque c'era poca gente, le maestranze mancavano, insomma è stato brutto sotto questo punto di vista ma va bene così, come si dice ogni città è matrigna con i suoi figli e Lucera lo è stato un po' con me, devo dire. Non mi sono sentita proprio a casa. Invece a Roma, Lecce, Palermo stessa abbiamo sempre avuto i cinema pieni di gente incuriosita nel vedere una storia vera raccontata da questo cast importante. A parte i progetti teatrali che citavi prima poi hai anche qualche altro progetto per quanto riguarda appunto la recitazione ma anche la musica? Sì, ci sono comunque dei progetti anche musicali in atto, non posso ancora dire nulla però se mi seguite sui miei canali social su Instagram, Martina di Fonte, di Fonte tutto attaccato mi raccomando lo scrivono sempre tutti staccato non so perché anche il cinema, quando andrete al cinema e vedrete tra i titoli di coda insomma il nome degli attori il mio cognome è staccato, invece Martina di Fonte potrete seguire tutti i miei aggiornamenti e i miei vari progetti. Grazie Martina Grazie a voi Grazie Avete ascoltato Luci della Ribalta Lo spettacolo e la comunicazione sviscerati da Marco Bonardelli Lo spettacolo e la comunicazione Grazie a voi Grazie a voi Grazie a voi